Il corso dal Total Reward alla Total Experience offre una prospettiva innovativa per l'HR Management, concentrandosi sull'importanza di costruire una relazione di valore con i collaboratori, andando oltre la mera leva economica. Grazie a una visione olistica che integra compensation, coinvolgimento e benessere, il corso fornisce strumenti per attrarre, motivare e trattenere talenti strategici, rispondendo così alle sfide moderne di attrazione e fidelizzazione. I partecipanti apprenderanno strategie per creare una Total Experience che aumenta la motivazione, la soddisfazione e, di conseguenza, il contributo individuale al successo aziendale. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.